Buongiorno, mi chiamo Andrea Ferrero, sono un chirurgo ortopedico e in questo video parleremo di artrosi. Si tratta della malattia articolare maggiormente diffusa, basti pensare che oltre il 90% delle persone con più di 65 anni ne affetta, spiegando quindi facilmente come mai sia uno dei motivi di più frequente consultazione in un ambulatorio di ortopedia. In questo video cercheremo di spiegare che cosa è l'artrosi, definirne le cause, descriverne i sintomi, quali esami eseguire per fare la diagnosi e infine descriveremo brevemente i principi di trattamento. Prima di inoltrarci nel video però vi chiedo cortesemente di mettere un mi piace e soprattutto di iscrivervi a questo canale qualora riteniate che i contenuti possono essere utili a voi o a qualcuno di vostra conoscenza. Ora, molte persone sanno di avere l'artrosi ma in realtà non sanno bene di che cosa si tratti. La prima domanda quindi a cui cercherò di rispondere è che cosa è l'artrosi. L'artrosi è semplicemente l'usura lenta e progressiva della cartilagine articolare e può virtualmente colpire ogni articolazione, anche se poi quelle frequentemente colpite dal punto di vista dei sintomi sono l'anca, il ginocchio, la schiena e le dita della mano. L'artrosi, contrariamente a quanto pensano molte persone, non è una forma di reumatismo articolare ma è semplicemente, come abbiamo appena detto, una degenerazione, un'usura della superficie della cartilagine. La cartilagine è uno strato duro e liscio che ricopre una parte delle ossa, quelle cioè che vanno a formare l'articolazione. La cartilagine non solo permette lo scorrimento ottimale delle articolazioni ma in parte ne assorbe anche gli urti. Purtroppo, e qui sta la brutta notizia, non si rigenera. Una volta che si danneggia, che si consuma, non si può più ricreare. Ora immaginiamo la cartilagine come uno strato dello spessore di alcuni millimetri che ricopre lo strato osseo che sta subito sotto. In alcuni casi la cartilagine può consumarsi anche lungo tutto il suo spessore rendendo quindi esposto l'osso sottostante. In queste due radiografie vengono messe a confronto un ginocchio sano da un ginocchio invece con un'artrosi severa. Nel ginocchio sano potete vedere come le linee dell'articolazione del femore e della tibia in giallo siano ben distanziate tra di loro, contrariamente a quanto succede invece sulla radiografia di destra, dove la linea rossa dimostra il completo collasso dell'articolazione. A questo livello la cartilagine è completamente consumata e le due ossa, femore sobra e tibia sotto, vanno direttamente a contatto. Nell'articolazione oltre alla cartilagine troviamo anche il liquido sinoviale che è presente in quantità più o meno variabile in ogni articolazione e che agisce come lubrificante e anche come nutriente della cartilagine. Il liquido sinoviale contiene acido ialuronico che molti di voi sicuramente hanno già sentito nominare nell'ambito della medicina estetica. Ci sono ovviamente diversi gradi di artrosi, maggiore il grado di degenerazione e di consumo della cartilagine e maggiore chiaramente sarà il grado di artrosi. I sintomi sono semplicemente il dolore, il gonfiore dell'articolazione, il senso di rumori articolari, un senso di cedimento articolare o anche di rigidità, che fa quindi paragonare le articolazioni a degli ingranaggi arrugginiti. Tutto questo può rendere estremamente difficile eseguire dei gesti che per noi possono sembrare molto banali, come aprire il tappo di una bottiglia, un barattolo oppure salire e ancor più scendere le scale? Questa è la domanda che più frequentemente mi viene posta in ambulatorio. Quali sono le cause dell'artrosi? Distinguiamo le cause in primarie e in secondarie. Tra le cause primarie sostanzialmente troviamo l'età, mentre invece tra le cause secondarie possiamo elencare fratture, lussazioni, malattie reumatiche o un malallineamento degli arti. Ci sono poi chiaramente dei fattori predisponenti, come ad esempio la predisposizione genetica oppure attività lavorative o sportive ad alto impatto. C'è poi chiaramente il fattore peso. Avere dei chili in eccesso, soprattutto sugli arti inferiori, può determinare un sovraccarico e quindi una usura maggiore e più precoce delle articolazioni. La diagnosi sostanzialmente è molto semplice. Basta infatti un buon esame obiettivo e delle radiografie, che eventualmente in alcuni casi possono essere anche coadiuvate da un attack o da una risonanza magnetica. Prima di parlare del trattamento desidero ricordarvi ancora una volta che purtroppo non si può guarire dall'artrosi. L'artrosi infatti nel corso del tempo potrà solo peggiorare. E' quindi fondamentale cercare di adottare fin da subito una strategia per cercare di ritardarne il peggioramento. Il movimento fisico è sicuramente benvenuto. Non solo per perdere i chili in eccesso, ma anche perché rinforzare la muscolatura determina una maggior stabilità delle articolazioni, riducendo quindi gli episodi di instabilità e di dolore. Bisogna per ovviamente distinguere quale attività fisica fa bene e quale attività fisica invece può essere addirittura dannosa. Attività come la corsa, soprattutto in discesa, o il calcio possono peggiorare l'artrosi già presente, mentre invece attività come il nuoto, l'acqua gym o la palestra possono aiutare molto. Tra i farmaci identifichiamo i comuni antidolorifici come il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei, cioè che non appartengono alla famiglia dei cortisonici e che normalmente indichiamo come FANS. C'è poi una categoria di medicamenti completamente diversa che sono i cosiddetti condroprotettori, tra cui ricordiamo la condrotin solfato e la glucosamino solfato, che hanno lo scopo di nutrire maggiormente la cartilagine e che possono a loro volta essere associati alla vitamina C, alla vitamina E o allo zinco. Le infiltrazioni possono essere di cortisone con anestetico locale, che ha un ottimo effetto antinfiammatorio, oppure di acido ialuronico o concentrato piastrinico, cioè il vostro sangue centrifugato. Per avere maggiori informazioni sulle infiltrazioni vi invito a cliccare il link che trovate adesso in alto a destra sul vostro schermo. Per quanto riguarda la dieta, il mio consiglio è sicuramente quello di rivolgervi al vostro nutrizionista, in modo da avere delle informazioni, un programma più preciso di quanto posso invece raccontarvi io in questo breve video. Ancora una volta torno sull'importanza di ridurre il peso in eccesso, anche perché il tessuto adiposo, cioè il tessuto grasso, tende a rilasciare degli ormoni chiamati adipochine, che non solo favoriscono ma addirittura intensificano le infiammazioni, rendendovi quindi a maggior rischio di avere episodi dolorosi di maggior frequenza e di maggior intensità. È importante chiaramente adottare una dieta variegata. Ricordo l'importanza, nel contesto dell'artrosi, di assumere un introito adeguato di vitamina C che troviamo negli agrumi, vitamina D calcio che troviamo nei latticini, proteine di cui è ricca la carne ma di cui non bisogna abusare perché può addirittura avere anch'essa un effetto infiammatorio. Quindi è bene cercare una parte dell'introito di proteine in altri cibi come ad esempio i legumi. Gli zuccheri sono da ridurre al massimo, soprattutto quelli raffinati e c'è poi da distinguere gli acidi grassi buoni, cioè quelli ricchi di omega 3, dagli acidi grassi cattivi, cioè quelli ricchi di omega 6. Tra gli acidi grassi buoni ricchi di omega 3 troviamo ad esempio le sardine, il tonno, la trota o gli ortaggi a foglia verde, mentre invece gli acidi grassi cattivi, quelli ricchi di omega 6, sono presenti soprattutto nelle noci, nelle arachidi, nelle mandorle o nell'olio di semi di girassone. Per quanto riguarda la medicina alternativa possiamo identificare dei medicamenti il cui principio attivo viene direttamente ricavato dalle piante come ad esempio l'arnica o l'artiglio del diavolo, ma sempre in questo ambito troviamo anche l'agopuntura che può aiutare a ridurre le intensità degli episodi dolorosi. Voglio sottolineare poi l'importanza di conoscere che in commercio ci sono degli ausili, cioè dei mezzi che possono facilitarci nella vita di tutti i giorni, come ad esempio dei mezzi per aprire più facilmente il tappo delle bottiglie, oppure aprire più facilmente i coperchi o raccogliere oggetti caduti a terra senza doverci chinare, o ancora delle impugnature dedicate per penne e biro, o anche dei calzascarpe più ergonomici di quelli a cui siamo abituati. Per quanto riguarda la chirurgia si tratta sempre e comunque dell'ultima opzione da considerare. Vi invito quindi a visionare il mio sito internet www.dottorferrero.com dove scorrendo verso il basso la home page troverete quattro canali, quattro capitoli, che sono anca, ginocchio, caviglia e piede e al cui interno troverete tra gli altri i tipi di intervento che più frequentemente vengono proposti nei pazienti affetti d'artrosi, come la protesi d'anca, la protesi di ginocchio totale o parziale, oppure gli interventi per l'artrosi al caviglia e piede. Ringrazio sicuramente coloro che hanno avuto la pazienza di seguire questo video fino alla fine e ancora una volta mi permetto di chiedervi di iscrivervi a questo canale. Grazie